Buongiorno a tutti da Ermanno Frassoni, MotorfonTV. Siamo qui con Edoardo Vercellesi, giovane telecronista di Sky Sport Italia, col quale tra l'altro condiviso un pezzetto di strada insieme ai tempi dei siti Motor Inside e Motorsport Trends e quindi mi fa piacere ritrovarti qui in questo collegamento. Benvenuto, credo prima di tutto. Grazie mille, grazie mille Ermanno, il piacere è davvero tutto mio. Ultimamente ci sono stati un po' di momenti a marcord con i nostri vari colleghi, Max, Gianluca, eccetera, e mancavi praticamente solo tu. Ho visto di recente la tua tesi di laurea, che è stata pubblicata tra l'altro su yellowflagtalks.com, in relazione al tema, al dramma nello sport, messo in collegamento con la cabina di chi è dedicato ai commenti, diciamo, dell'evento. Volevo chiederti, allora innanzitutto come stai, visti i tempi, che non è connesso, diciamo, con l'intervista di per sé, però mi sembra giusto. Però è fondamentale, visto il momento. Ma è strano. Innanzitutto fisicamente benissimo. Mentalmente è più difficile, per una serie di ragioni abbastanza abbastanza ampia. Purtroppo anche a livello lavorativo siamo fermi, e questo significa tutta una marea di cose. Però procediamo, ecco. Dobbiamo inventarci dei modi produttivi per impiegare questo tempo, per andare avanti. Dovrei ricominciare a scrivere. Prima o poi troverò il tempo e la voglia di farlo. Il tempo ci sarebbe, sicuramente. Il tempo c'è, ma manca la voglia, manca l'ispirazione. E volevo chiederti, tornando appunto in oggetto su questa tesi, appunto, innanzitutto quale corso di laurea hai frequentato e come è nata quest'idea di questo tema particolare. Dunque, mi sono laureato poche settimane fa in scienze umanistiche per la comunicazione all'Università degli Studi di Milano, la Statale, corso che scelsi per ovvie ragioni di affinità con l'ambiente che volevo abitare, ecco, e che avevo già per fortuna cominciato ad abitare. L'idea di questa tesi è venuta con il venir meno delle mie idee precedenti, ovvero innanzitutto avevo idealmente pensato di fare qualcosa che riguardasse una piccola storia delle telecronache, poi ho desistito. Avevo pensato di fare un'analisi con un professore su come fosse cambiato nel corso del tempo il linguaggio utilizzato nelle telecronache, ma il professore non aveva più spazio per avermi con lui. E poi, dopo l'incidente di Antoine Hubert, più e più volte con degli amici, tra cui Mattia Sabino e Lorenzo Migatti di HelloFlat Talks, ci è capitato di parlare del fatto che progressivamente nel corso del tempo si tendesse sempre più a censurare le immagini degli incidenti più gravi, ma degli incidenti in generale, non soltanto di quelli più gravi, e quindi come fosse cambiato il modo di trattare nel corso del tempo. E ho pensato perché non provare a farne un discorso? È relativo al mio ambiente, riguarda un po' anche il mio lavoro, perché riguarda anche appunto la cabina di commento, oltre che le immagini. E quindi ho pensato che fosse un argomento originale, mai trattato, almeno credo, che potevo affrontare utilizzando buona parte anche della mia esperienza personale e dei miei contatti per avere anche delle opinioni esterne, di pari esterni, con diversi colleghi che mi hanno dato una mano e poi eventualmente racconterò anche questo. Quindi ho trovato un professore che peraltro è molto appassionato di motori e anzi negli anni 90 scriveva con Max Temporale, il mio attuale compagno di Telecronache, ma questo l'ho scoperto soltanto dopo. Quindi era il mio uomo, era assolutamente il mio uomo e gli ho proposto questa idea, mi sono fatto dare il contatto, guardi proprio voglio fare questo, questo, quest'altro, ha accettato ed è andata molto bene. Ho capito. E volevo chiederti invece in relazione proprio al discorso della percezione della morte, che è molto cambiata nello sport, soprattutto nel motorsport con gli anni, adesso in un certo senso, dal mio punto di vista, succede un evento drammatico e viene visto come quasi qualcosa di inaccettabile, come si può dire, sia mediaticamente che penso umanamente, mi auguro. Mentre invece un tempo non era così, quindi volevo un po' chiederti cosa è cambiato forse nella società per arrivare a questo punto. Ecco sì, nello stralcio diciamo di tesi che è stato pubblicato, che racchiude buonissima parte del secondo e del terzo capitolo della mia tesi, sostanzialmente quasi intatto, se non per, diciamo abbiamo tolto quelle che erano le spiegazioni delle dinamiche e quelle cose che ha un pubblico appassionato di motorsport erano più chiare, ovviamente era un discorso che ho dovuto fare a livello accademico anche per personaggi meno avvezzi al motorsport. Manca tutto il primo capitolo che invece era un'analisi della società, un'analisi sociologica di come nel corso del tempo si è cambiato il modo di intendere e interpretare la morte proprio nelle comunità umane. e secondo un professore di sociologia, che mi pare fosse il professor Codellupi ma potrei errare, quindi non ricordo precisamente, ma qualcuno sosteneva che fosse cambiato questo modo di approcciare la morte e il dramma in generale perché la morte non combacia con le promesse della società dei consumi e dunque sia sempre più in conflitto con le promesse, con il progresso, con i miglioramenti dal punto di vista medico, del tenore di vita, della qualità della vita. Dunque c'è una premessa di tipo sociologico appunto, a cui chiaramente dal punto di vista motorsport aggiungiamo il fatto che la sicurezza vi ha fatto dei passi da gigante negli ultimi 25 anni, specialmente partendo dall'incidente di Ayrton Senna. Certo, poi di lì ti chiedo qualcosa in seguito. Volevo chiederti, riguardo sempre proprio al tema motorsport e dramma nel motorsport, occorre sempre che succeda qualcosa secondo te di grave perché poi si capisca che bisogna porvi in rimedio? Una cosa che non riguarda solo le corse però... Guarda è un discorso ampio e complicato questo perché... Tu come l'avete la tua parera, ecco? Allora, io penso che non sempre sia facile anticipare gli eventi e dunque non sempre sia facile rendersi conto che nello status quo ci sia qualcosa che possa non funzionare. Nel momento in cui lo status quo non ti mette al riparo da un evento luttuoso, drammatico, a quel punto hai una chiara evidenza del fatto che c'è qualcosa che va cambiato. Quindi quello che penso è che da un punto di vista estremamente, direi, pragmatico ed evidente, sia difficile riuscire ad essere un passo avanti rispetto ai tempi e quindi l'evento sia effettivamente ciò che ti fa rendere conto della necessità di cambiare qualcosa o meno. Ho capito. E volevo chiederti, andando appunto a esaminare un po' quello di cui tu parli diffusamente, il Gran Premio di San Marino a Imola 1994, che comincia appunto il venerdì con l'incidente di Barrichello, poi l'incidente mortale di Ratzenberger il sabato, domenica, sappiamo, Senna, e volevo chiederti un po' quali conclusioni hai tratto per quanto riguarda la gestione televisiva, mediatica appunto della cabina di commento in relazione a questo weekend così drammatico, così difficile. Allora, ciò che ho potuto constatare, grazie anche al grandissimo lavoro che ha fatto Mattia Sabino di Yellow Plot Talks, per quanto riguarda la ricerca delle immagini e lo ringrazio chiaramente per averle messe a mia disposizione. Quello che ho potuto constatare è che effettivamente all'epoca la sensibilità nei confronti del pericolo e del dramma era molto diversa. Per quanto non avvenisse una morte nel campionato di Formula 1 dall'82, da Riccardo Paletti, e poi a Lio di Angelis, ma fu nel corso di un test, quindi fu un evento un po' un po' differente, ci si erano poi in un certo senso disabituati al fatto che potesse succedere qualcosa del genere. E quindi mi viene da pensare che chi ha gestito in quel momento immagini, regia e tutto il resto, diciamo non fosse preparato a una mole di dramma del genere. Detto questo però, credo che sia importante sottolineare anche come all'epoca, e questo è un parere che ho ritrovato anche nell'intervista che ho fatto per questa tesi a Gianluca Guiglia, nostro ex collega di Motorsport Trans, e anche grande esperto di NASCAR. Credo che all'epoca ci fosse una tendenza molto diversa dal punto di vista della gestione delle immagini e di ciò che fosse giusto e sbagliato. C'era una visione molto più documentaristica all'epoca, ovvero tutto ciò che avveniva in presa diretta, tutto ciò che quelle, tra virgolette, poche telecamere che si avevano a disposizione potevano mostrare, fosse giusto poi portarlo all'attenzione dello spettatore. E dunque notiamo effettivamente un approccio molto documentaristico, ovvero con telecamera fissa, che rimane sempre sul luogo dell'incidente, sia nel caso di Barricaro, che nel caso di Ratzenberger, che di Senna. E a fianco di quella telecamera fissa, o di due telecamere, vengono utilizzate tutte quelle che sono intorno al luogo dell'incidente, per mostrare comunque tutto quello che avviene, c'è anche quella dell'elicottero che permette una visione differente, ma comunque d'insieme, panoramica, sempre di quello che sta avvenendo. E quindi tutto quello che viene mostrato, mostra la concitazione del momento, e mostra la crudezza del momento, perché non vengono risparmiati i dettagli assolutamente esecrabili con il gusto di oggi, ma che all'epoca erano normali, diciamo. Si è visto tanto, secondo me. Si è visto sangue. Troppo. Si è visto sangue, si è visto Senna, che moriva in diretta, spostando la testa l'ultima volta, o Waller Ratzenberger. Oggi non accadrebbe. Oggi non accadrebbe. E volevo chiederti, in relazione sempre a quel weekend, prendendolo come esempio, secondo te quanto può essere difficile per un giornalista, penso a Zermiani, che c'era all'epoca, documentare un fatto del genere, farsi largo in una situazione così difficile, anche moralmente, no? Dunque, è tanto difficile nel momento in cui riesci a considerare, nel momento in cui fai il tuo lavoro, quella componente umana, che chiaramente è quella più colpita. Devo dire però che, nella mia breve esperienza di giornalista, a me è capitato di commentare un incidente mortale, nel 2018, nel CERV Moto3 con Andreas Perez. Va detto che noi non abbiamo immagini di quell'incidente, e abbiamo saputo della morte del ragazzo soltanto la sera. Però, da quello che ho avuto modo di provare, nel momento in cui fai il tuo lavoro, è come se fossi in una specie di bolla. È una cosa che si chiama flow, dal punto di vista psicologico, mi è capitato di studiare questa cosa. Entri in questo stato di flow, nel quale, in un certo senso, vai avanti senza una piena coscienza di quello che ti sta avvenendo intorno. Quindi tu fai il tuo lavoro andando avanti nella maniera in cui dovresti fare. È chiaro però, e lo si nota dalle immagini, che Zermiani, così come Voltronieri, non soltanto, erano estremamente scossi da quanto stesse accadendo. Perché c'era stato il venerdì, poi c'è stato il sabato, poi c'è stata la domenica, nei vari incidenti della domenica. Quando alla fine del weekend avviene l'ultimo incidente, che è quello di quando Michele Alvoreto perde la gomma della sua vettura in pit lane, ricordo, l'avevo visto diverso tempo fa, che Zermiani, se non ricordo male, parlò di inferno. Sembrasse di stare all'inferno. Se che era successo. Forse una situazione maledetta. Quindi sì, sicuramente c'è una enorme difficoltà da un punto di vista più umano che professionale nella gestione dell'evento, e penso che in quel momento si debba, in un certo senso, mettere da parte un po' la ricerca della notizia, favorendo invece un approccio un po' più umano. Io ho l'impressione che in quel caso, anche per come funzionasse la cosa ai tempi, Zermiani fosse stato abbastanza invasivo nel suo modo di intervenire, cercando di parlare con il dottor Piana e non soltanto. Quindi sì, è molto complicato dal punto di vista umano, giornalistico e soprattutto etico. Ho capito. Volevo chiederti, passando un attimo invece alle moto, penso all'incidente di Marco Simoncelli nel 2011 a Sepang, e volevo chiederti in relazione a questo se ci sono delle differenze per esempio tra auto e moto. Cioè già nelle telecronache ci sono sicuramente, come ben sai, adesso vabbè con Vanzini abbiamo un po' più di... Però comunque si mantiene una certa differenza secondo me tra Meda e Vanzini ad esempio. Però volevo chiederti il tuo parere cosa mi dice a riguardo. Allora, riguardo all'ambito puramente degli incidenti e prendo ad esempio Simoncelli, ma potrei cominciare da Cato, tra l'altro oggi 20 aprile sono 17 anni dalla morte di De Giro Cato. Quello che ho notato nelle ricerche che ho fatto per la mia tesi è che tutto è partito dalla Formula 1 con l'incidente appunto di Varisena, Ratzenberger e Varichello con il weekend di Imola insomma. E quindi le tendenze, le nuove tendenze sono state dettate dalla Formula 1. avvenne lo stesso quando poi nel 2014 ebbe l'incidente che poi lo portò alla morte l'anno seguente Jules Bianchi ovvero il primo caso di totale censura delle immagini. È la Formula 1 essendo il campionato più grande e che attira il maggior numero di investimenti a dettare le tendenze. Quello che ho notato è che le moto ci hanno messo più tempo ad adeguarsi perché già nel caso di Massa per esempio ci fu un'attenzione particolare ovvero venne mostrato molto tardi il primo replay non venne mai inquadrato il pilota durante i suoi soccorsi eccetera. Con Simoncelli due anni dopo abbiamo avuto comunque una forte insistenza sui replay dell'incidente partendo subito dopo lo schianto da una visione aerea dall'elicottero nella quale si vedeva Marco steso sulla pista. senza il casco seppur da lontano quindi quello che ho notato è specialmente questo che il moto mondiale e non soltanto ci hanno messo più tempo per recepire le nuove tendenze i nuovi dettami proposti dal mondo delle quattro ruote adesso sostanzialmente siamo nello stesso ordine di idee perché non esistono immagini dell'incidente di Luis Salom nel 2016 a Barcellona quando il povero pirata spagnolo ha perso la vita e l'esempio che più mi ha colpito perché non è un incidente mortale in alcun modo è quello dello scorso anno a Silverstone quando alla prima curva Fabio Quartararoshi volò e Dovizioso decollò sostanzialmente sulla sua Yamaha fino a che Dovizioso non si rialzò non venne mostrato alcun tipo di replay dell'incidente ma nemmeno nemmeno immagini dalla via di fuga ci si concentrò sulle immagini di gara e soltanto quando Dovizioso venne mostrato in piedi sulle proprie gambe a quel punto venne mostrato un replay dell'accaduto quindi anche una volontà di proteggere i protagonisti del crash diciamo molto marcata rispetto a un tempo e invece per esempio mi viene in mente l'incidente di Hubert a Spa Franco-Champs in Formula 2 lo scorso anno e rispetto appunto alla trattazione dell'episodio relativo a Giordianchi è cambiato qualcosa o siamo in linea più o meno? Allora piccola premessa per quanto il discorso sia in realtà molto molto simile la piccola premessa che mi sento di fare è che la Formula 2 non è comunque la Formula 1 per quanto sia in realtà sostanzialmente un'emanazione della stessa dal punto di vista registico dal punto di vista della proprietà e tutto però diciamo che il dispiegamento di forze anche mediatiche che c'è intorno alla Formula 2 non è lo stesso della Formula 1 detto questo cambia veramente nulla nel senso che di Antoine Hubert non abbiamo alcun tipo di replay non abbiamo alcun tipo di immagine non abbiamo niente addirittura Sky Italia in quel caso fu una decisione di Sky stessa sospese il collegamento con Spa quando si capì che la gara non sarebbe ripresa quindi come nel caso di Bianchi c'è stata una totale censura di quanto è avvenuto le immagini ovviamente ci sono perché abbiamo le telecamere su tutte le macchine ma è stato scelto esatto di non mostrare di non rendere pubbliche in alcun modo e invece facciamo un salto negli Stati Uniti che è appunto altro tipo di gare altra mentalità in un certo senso cosa mi dici cosa dice la tua ricerca anzi a riguardo su IndyCar NASCAR dunque la mia ricerca ha evidenziato una maniera differente di trattare l'argomento anche negli Stati Uniti c'è stata un'evoluzione nel corso del tempo perché se l'idea centrale della mia tesi era sottolineare come dal 94 al 2019 nel corso di questi 25 anni si è cambiato il modo di trasmettere gli incidenti dal mostrare tutto al censurare sostanzialmente tutto è vero che negli Stati Uniti comunque c'è stata un'evoluzione nel corso del tempo ad esempio nel 96 quando Morijet Krosnoff si indugiò in maniera abbastanza importante con le immagini sul luogo dell'incidente sui soccorsi al pilota già con Earnhardt nel 2001 qualcosa era cambiato sostanzialmente gli statunitensi hanno sviluppato una certa sensibilità nei confronti del personaggio coinvolto ovvero quando c'è un pilota evidentemente è ferito e lo si capisce molto in fretta vedendo se si muove all'interno dell'abitacolo o meno se cerca di uscire se comunica via radio o no quando c'è un pilota particolarmente ferito le immagini dell'incidente cercano di le immagini del post-incidente cercano di escluderlo di rispettarne privacy e dignità quindi la tendenza rimane questa il replay viene mostrato subito senza problemi a patto che non sia dall'onboard del pilota coinvolto del pilota in questione perché ad esempio l'incidente di Dan Weldon fu inquadrato nelle sue fasi iniziali nel suo innesco proprio dall'abitacolo di Weldon nei replay non vi è traccia di quell'onboard vengono utilizzate soltanto altri onboard tra cui quello particolarmente cruento di Willpower ma insomma per fortuna Power ne uscì senza problemi quindi i replay vengono utilizzati in maniera molto molto ampia e molto insistente in un certo senso ma mai dalla prospettiva del pilota coinvolto vengono utilizzati tanti replay diversi per spiegare per filo e per segno la dinamica e anche per fare un discorso sulla sicurezza perché chiaramente permette di capire cosa c'è da cambiare e cosa no nel post incidente le immagini di soccorsi vengono trattate in maniera molto chiara ovvero mai in primo piano sempre da lontano il primo piano viene riservato soltanto ai piloti illesi detto questo quindi c'è una netta sensibilità nel trattare chi è ferito però c'è anche una tendenza comunque a calcare la mano sull'accaduto ad esempio i cinque giri di pista fatti quando si si seppe che Weldon era purtroppo morto quindi c'è quella tendenza spettacolare hollywoodiana nell'approccio americano che però si compenetra con una sensibilità nei confronti di chi si è fatto male c'è un po' l'idea di andare avanti e onestamente credo che sia un buon compromesso tra il mostrare tutto e non mostrare nulla cioè gli americani ti mostrano tutto quello che non ha direttamente a che fare con con il dolore del pilota ferito del pilota ferito o morto secondo me è un buon moto perché l'appassionato di motorsport e qui poi chiedo anche il tuo parere perché ti reputo tale e ti reputo estremamente competente al riguardo l'appassionato di motorsport sa benissimo che il pilota si può far male che il motorsport è pericoloso quindi da un certo punto di vista è poco utile non mostrarlo lo si fa per proteggere determinati interessi e una certa immagine del un certo rispetto per i familiari per chi è coinvolto anche anche poi c'è scritto dietro i biglietti motorsport is dangerous lo sappiamo in tutto senso magari in Italia vale meno la cosa nel senso che il pubblico è un po' differente forse meno competente rispetto al pubblico inglese per certi siamo una strana bestia noi italiani da quel punto di vista poi non si vuole mai generalizzare però alle volte se viene un po' quell'idea però si ce ne siamo resi conto nel corso del tempo abbiamo un approccio abbastanza abbastanza diverso e e tendiamo ad essere meno coerenti di altri purtroppo e certo recentemente con il fattaccio di Larson anche gli americani si sono mostrati un po' particolari e un po' poco coerenti però insomma non generalizziamo come hai detto tu ha fatto sensazione anche quel discorso ma un altro capitolo appunto e un altro capitolo ancora è quello del Sud America sempre questa ricerca che è un altro un altro discorso un altro modo di affrontare queste problematiche sì perché recentemente grazie ad alcuni amici mi sono appassionato alle corse argentine in particolare al turismo carretera al turismo nazionale che sono un tipo di motorsport molto più ruspante molto più vecchio stile più povero più artigianale più pericoloso perché oggettivamente le misure di sicurezza e le modalità costruttive sono molto più arretrate però forse anche proprio per quello e anche per le piste sulle quali si corre è ancora un motorsport molto spettacolare e molto incerto dove possono vincere in tanti è molto umano ecco e quindi croce e delizia insomma questa questione dell'artigianalità del motorsport sudamericano in generale chiaramente questo ha un influsso anche sul modo di trasmettere gli incidenti lì si tende a mostrare ancora tutto ovvero l'incidente di Guido Falaschi nel turismo carretera a Balcarse ne è un esempio attorno al luogo dell'incidente mi pare fosse il 2011 ma adesso non vorrei sbagliarmi attorno al luogo dell'incidente si radunò una folla enorme di curiosi di spettatori di fotografi di giornalisti con i piloti ancora in gara che passavano dietro safety car per entrare in box perché la gara era chiaramente stata interrotta ma passavano lì a fianco e a momenti non riuscivano ad evitare i mezzi di soccorso e le persone in pista cioè è una situazione che con un occhio europeo è impensabile ed è da principianti cioè sembra veramente una gara organizzata di principianti però lì le tendenze sono diverse si fa tuttora invasione di pista a fine gara sono modalità molto diverse e appunto c'è una forte insistenza su quello che avviene me ne parlava Rosario Triolo mio collega Sky Sport loro non si preoccupano di certi fronzoli un po' perché hanno un'abitudine al dramma anche per un discorso di criminalità e di società molto più un'abitudine molto più forte rispetto a noi e quindi si preoccupano di meno e un po' perché hanno questa tendenza al sensazionalismo quando l'anno scorso morì Emiliano Sala il calciatore mi raccontava Rosario che i giornalisti andarono a casa del padre di Sala a chiedergli cosa fossero state le ultime cose che si fosse letto col figlio cioè c'è un limite che lì non viene assolutamente rispettato non sarà la privacy diciamo in un certo senso esatto assolutamente no loro basta buttare cose in copertina e sono contenti quindi per fare un sunto motorsport a base europea e quindi motorsport globale tende a censurare il motorsport sudamericano tende a mostrarle tutto gli Stati Uniti sono un po' una via di mezzo che secondo me è un compromesso accettabile invece dove collochi il Tourist Trophy perché pensavo a queste gare pazzesche su strade ordinari che appunto pensavo magari un pubblico anche più preparato più pronto al dramma perché ovviamente lì ogni edizione qualcuno ci lascia il pen assolutamente ed è proprio il motivo per cui ne farei un discorso ulteriormente a parte proprio all'inizio del terzo capitolo prima di trattare Stati Uniti e Argentina e Stati Uniti e Sud America in generale poi prendo l'Argentina come riferimento massimo il discorso che ho voluto fare è proprio questo corse diverse e luoghi diversi sviluppano una sensibilità differente nei confronti del dramma e della morte e quindi ci sono gare come il Tourist Trophy che non possono essere lette con le griglie interpretative normali canoniche sono delle gare a parte ed è il motivo per cui è totalmente inutile e incoerente il discorso del tipo perché li fanno ancora correre lì perché non devi leggerlo con i tuoi strumenti soliti perché è una scelta la cosa esce sempre nel senso quando succede l'episodio dicono stoppiamo il Tourist Trophy è abituale ma loro sono i primi che non vorrebbero stopparlo quanti piloti si sono fatti male e continuano a correre Connor Cummings è vivo per miracolo che volò giù da una scarpata alla veranda nel 2010 boh 10 è andato a battere contro i muri le pecore andando giù per una scarpata l'anno dopo stava correndo di nuovo cioè è proprio un discorso che esula dal normale motorsport dal motorsport pista e quindi e quindi va completamente separato come argomento rispetto al resto ti direi tra l'altro mi raccontavano che proprio per questo motivo anche la gestione degli incidenti è diversa i cameraman sono addestrati a inquadrare nel lato opposto rispetto agli incidenti per esempio quindi c'è comunque anche lì una certa cura diciamo che assolutamente però invece assolutamente proprio perché è un argomento molto molto d'attualità e perché avviene spesso proprio per questo appunto si cerca di di reagire in un certo modo vorrei concludere con un excursus sul mondiale superbike che sappiamo che è iniziato appunto a Phillip Island in Australia e poi adesso per ovvi motivi è tutto fermo ho sentito che però hanno bisogno di spettatori per fare le gare nel senso che a quanto sembra gli introiti sono fondamentali gare a porte chiuse tu come la vedi difficile allora assolutamente sì perché l'introito dal pubblico è ampio in superbike molto meno rispetto per esempio alla moto GP perché fa meno gare e perché purtroppo attira meno spettatori però torna in questo momento ed è un discorso che facevo recentemente con alcuni amici e colleghi il problema è che torna che è il promoter che gestisce sia moto mondiale che superbike si trova in una situazione terrificante nel senso che deve aiutare tutti coloro che in questo momento essendo fermi non percepiscono non percepiscono l'introito e quindi deve impegnarsi per aiutarli economicamente ma farlo per un campionato è un conto farlo per adesso proviamo ad escludere alcune squadre diciamo se anche lo fai togliendo la moto GP e team ufficiale di superbike hai moto 2 moto 3 super sport 300 super sport 600 e team privati di superbike con un esborso economico enorme quindi torna ha bisogno che la gente venga in circuito e corre da porte chiuse e rischia di essere davvero un bagno di sangue e riguardo appunto la superbike come vedi i protagonisti secondo me che potrebbero essere quest'anno dunque posto che la gara di philippe island fa un po' storia a sé per una serie di motivi e quindi è una gara che secondo me dice molto poco di quello che vedremo quest'anno l'impressione è che Jonathan Ray rimanga comunque il favorito perché è l'unico pilota che conosce la propria moto su tutte le piste e in tutte le condizioni è l'unico che quindi non si troverà davanti a alcun tipo di incognita da un punto di vista diciamo del proprio pacchetto va detto che questo Rasgatlioglu con questa Yamaha è interessante ma bisogna capire Yamaha quanto renderà sulle altre piste se sarà una moto competitiva per il mondiale per andare forte ovunque vincere ovunque o meno il turco ha molta fame e questo sicuramente va dalla sua parte l'altro grande nome è quello di Redding con la Ducati e bisognerà capire come si troverà non è detto però che al primo anno possa già pensare di battere di battere Ray proprio per il discorso che facevo perché per lui è quasi tutto nuovo seppur corra con Ducati già da due anni abbia vinto il BSB con la Ducati però non è esattamente la stessa cosa dal punto di vista poi degli altri grandi nomi Bautista e Honda ovviamente hanno davanti un cammino impervio per quanto riguarda lo sviluppo della moto Chas Davis sembra essere nuovamente in difficoltà come all'inizio dell'anno scorso Van der Mark e Lowe's sono insomma da valutare da verificare per quanto Lowe's sia andato fortissimo in Australia e sia attualmente leader del mondiale però siamo attualmente in una situazione dove di 2020 sappiamo ancora poco ma certo Phillip Island ci dice poco e penso che il pilota favorito rimanga comunque Jonathan Ray sarà comunque una stagione tutta da vivere sperando che parte sperando di viverla esatto secondo te partirà allora purtroppo che dobbiamo fare è che non dipende da noi nel senso che noi non abbiamo idea di quanto questo virus ci ci terrà in scacco e per quanto tempo quello che penso io è che noi non dobbiamo guardare solamente a cosa avvenga diciamo in casa nostra quando noi in Italia e italiani saremo pronti ma anche quello che avviene all'estero perché se è vero che noi abbiamo cominciato prima a trattare il virus significa anche che potremmo terminare prima rispetto ad altri paesi e a quel punto ci sarà poi un ulteriore problema ovvero quello di gestire gli assembramenti in pista con persone che si spostano da paesi ad altri paesi e quindi per il paese di provenienza persone che provengono da tutto il mondo quindi ovviamente da un punto di vista umano la la prudenza sarebbe insomma penso la cosa più importante e la cosa migliore da attuare detto questo siamo davanti è un bel problema è un bellissimo problema incrociamo le dita e stiamo a vedere edo ti ringrazio per la disponibilità e per questa video intervista io ringrazio te assolutamente mi ha fatto tanto tanto piacere